carissimi tutto procede e stanno succedendo tante tante cose tra l'altro questo io sto molto bene e questo piccolo disturbo residuo del linguaggio mi sta obbligando anche a reinventarmi in nuovi modi se per esempio una volta ero capace di inondare le persone di parole rapidissime ecco che tutto cambia e mi trovo a dover scegliere cosa dire e il risultato è che dico meno cose più importanti e questa è una cosa meravigliosa e interessantissima che mi sta succedendo arriviamo alla seconda puntata di questi articoli in cui stiamo cercando tutti insieme di capire cosa viene dopo vi lascio all'articolo e sentiamoci presto ciao